Oggi molti settori dell'agroalimentare non esisterebbero e quindi non avremo i nostri prodotti d'eccellenza senza il lavoro di persone estracomunitari, non necessariamente ovviamente migranti, che però oggi stanno dando il loro fattivo contributo. Sono oltre 1150 i migranti presenti in questo momento in provincia di Arezzo, un numero cospicuo che implica una serie di problematiche a cominciare dal modo in cui trascorrono le loro giornate. C'è chi lavora non in regola e chi come dimostra la cronaca arriva a essere impiegato in attività illegali. Per scongiurare questo rischio la prefettura di Arezzo insieme a CGL, CISL, CIE e Coldiretti ha fatto partire il corso di formazione ed educazione alla legalità sul lavoro. I nostri ospiti richiedenti asilo ovviamente cercano lavoro e quindi inserirsi nella realtà lavorativa in un altro mondo implica necessariamente la conoscenza delle regole, che significa anche evitare di essere sfruttati. Un seminario rivolto proprio ai richiedenti asilo che si trovano ospitati nelle varie strutture di accoglienza della provincia di Arezzo. Due lezioni consecutive per approfondire i temi della sicurezza del contratto di lavoro, soprattutto in agricoltura dove la pratica del caporalato continua ad essere troppo diffusa. La situazione in provincia non è una situazione drammatica, non è una situazione che non si può controllare, però ci sono stati dei casi, non è semplice controllare, non è semplice capire se questo fenomeno avviene e come avviene e quanto avviene. Bisogna seguirlo, bisogna capire se effettivamente può avvenire fuori un dato drammatico oppure no.